Ma perché questo festival e di cosa parleremo? Perché la salute oggi non ha confini e quindi parlare di salute per esempio degli immigrati significa parlare della nostra salute, perché significa affrontare temi, quale sarà la prossima pandemia, come si farà a sopravvivere alle malattie croniche che oggi riguardano un italiano su due, come affronteremo la sostenibilità dei nostri sistemi sanitari con farmaci straordinari che però sono incredibilmente costosi. Ecco, tutte queste tematiche oggi troveranno uno spazio a Padova dal 5 al 7 aprile e discuteremo non soltanto dei problemi ma anche delle possibili soluzioni, con tutta una serie di speaker che vengono da diverse parti del mondo e che ci porteranno in maniera però comprensibile per tutti i cittadini, perché questo è importante sottolinearlo, non è un festival soltanto per addetti ai lavori, ma è soprattutto un festival per spiegare alla gente comuni, a tutti coloro che hanno un interesse, come si fa a vincere queste sfide. Sono sfide veramente epocali perché ci troviamo in un momento in cui per esempio in Italia l'invecchiamento della popolazione è tale da compromettere la stessa sostenibilità del sistema, altri paesi stanno avendo gli stessi problemi, dobbiamo confrontarci, lavorare insieme per cercare di trovare una soluzione.